Ciao sono Luca Manelli e in questo breve video voglio farti vedere come puoi andare a misurare degli elementi all'interno dell'ipermodello BIMX sia nelle visualizzazioni tridimensionali e sia all'interno dei disegni impaginati nel layout. Io ora sono all'interno di un modello BIMX e se sto facendo una presentazione ed eventualmente il mio cliente mi chiede delle distanze o delle dimensioni degli elementi attraverso il BIMX abbiamo la possibilità di andare a interrogare il modello senza dover consultare i disegni. Una delle funzionalità molto comode è quella di andare a fare tap su un elemento e attraverso il pulsante che si attiva andare a richiamare le informazioni. Se abbiamo esportato le informazioni dal modello di Archicad possiamo vedere che all'interno del menu informazioni elemento che si apre abbiamo la possibilità di leggere l'altezza, le quote, l'angolo di inclinazione e la larghezza del pilastro che abbiamo evidenziato. Se vado a selezionare ad esempio una porta e vado a richiamare anche in questo caso le informazioni anche qua abbiamo delle informazioni per quanto riguarda l'altezza, la larghezza eccetera eccetera. Se abbiamo invece la necessità di misurare all'interno del modello delle distanze nella parte in alta destra della schermata abbiamo l'icona del righello. Se vado a fare tap sul righello il BIMX attiva al centro questo snap e questo cursore. Se lo vado a muovere ho la possibilità di andare a prendere un snap a un elemento e quando vado a spostare nuovamente il cursore ho la possibilità di agganciarmi a un altro snap all'interno del modello. In questo caso sto misurando questi due vertici la distanza che viene riportata è pari a 2,91 m. Posso anche proseguire con l'inserimento di nuovi nodi. Allora in questo caso lo strumento funziona un po' con lo strumento misura di Archicad dove oltre a darmi le singole distanze mi dà la sommatoria e in più possiamo vedere che al centro viene indicata anche un'eventuale area. In questo caso è l'area del triangolo che stiamo vedendo. Questo stesso sistema di misurazione lo abbiamo anche all'interno delle tavole. Per cui se vado ad esempio ad aprire la tavola del piano e vado a zoomare su un'area che mi interessa poi andare a misurare richiamando sempre lo strumento misura ho la possibilità andare ad utilizzare la stessa tecnica di misurare le distanze all'interno del disegno. In questo caso non abbiamo degli snap attivi però abbiamo la possibilità di prendere le distanze senza dover andare a stampare o interrogare in maniera differente il disegno. Una volta che abbiamo inserito i nodi abbiamo comunque la possibilità di andarci a fare tap sopra, li possiamo cancellare eventualmente andare ad aggiungere un punto. Nel caso in cui andiamo a cancellarlo ritorniamo alla misura iniziale. Anche in questo caso ho la possibilità di andare a fare tap sopra, andare eventualmente a muovere il cursore per andare a prendere un'altra misura. In questo caso sono andato a prendere la diagonale. Ecco questi erano un paio di sistemi molto veloci per poter interrogare il modello bmix in fase di presentazione magari al cliente oppure se stai controllando il progetto in cantiere senza l'utilizzo di disegni cartacei.